Da due giorni un odore puzzolente impregna l'aria Montecilfone, comune di circa 1200 abitanti. Il sospetto che la causa sia attribuibile, quattro silos in acciaio impiegati per il deposito dei cereali, ha indotto un cittadino, Antonio De Blasis, residente in via Vittorio Emanuele II, ossia a poca distanza dal consorzio agrario in cui si trovano i silos, a chiedere l'intervento dei carabinieri e dell'Arpa Molise, oltre che del sindaco Giorgio Manes. Il sopralluogo dei forestali si è svolto nelle scorse ore, quando i militari sono giunti in paese per appurare quanto denunciato. Il cittadino ieri ha avuto nausea e mal di testa a causa della puzza acre proveniente dal consorzio, ha detto. L'aria è irrespirabile, anche i miei vicini hanno riscontrato il forte odore nauseabondo. De Blasis, che è anche guardia zofila prefettizia, ha chiesto anche l'intervento dell'Arpa Molise per verificare l'insalubrità dell'aria tra la zona del consorzio e la strada in cui abito, ha scritto nella nota e inviata l'agenzia che si occupa del monitoraggio della qualità dell'aria. Questo evento si ripete periodicamente nel corso dell'anno, ma mai in questo modo così forte e accompagnato dai fumi rilasciati dai silos. Purtroppo, denuncia ancora De Blasis, via Vittorio Emanuele II a Montecilfone è una strada con alta incidenza di tumori, purtroppo anche io ho avuto un'esperienza personale. Il suo sospetto, secondo le indicazioni di un amico agronomo, è che venga impiegata a fosfina un gas tossico, che, ricorda il cittadino, dovrebbe essere impiegato solo in casi eccezionali e con l'autorizzazione della questura. Grazie a tutti.